Automazione. Non è un futuro lontano. È la nuova realtà. L'etichettatura manuale di un filo, tediosa e inevitabilmente imprecisa, ormai appartiene al passato. Con la stampante etichettatrice Ready Printer A5500. Stampa etichetta a bandiera personalizzate su materiali Ready di qualità e applicale in circa 5 secondi. Fili, cavi, fibre inguainate, tubi e astine vengono tutti etichettati in maniera perfettamente allineata, senza grinzi o bolle. Il software Ready Workstation calcola automaticamente la massima area di stampa per ogni etichetta, in base al diametro del filo. Inoltre, grazie alla tecnologia di comunicazione bidirezionale Smart Chip di Ready, si evita lo spreco di tempo e materiali delle fasi di configurazione e calibratura. La stampante etichettatrice Ready Printer A5500 rappresenta il futuro dell'automazione.